Il governo Draghi ha confermato per il 2022 il bonus dedicato a bambini e giovani che fanno musica. Chi può riceverlo? Tutti i genitori con i figli dai 5 ai 18 anni di età, iscritti a conservatori, istituti di alta formazione artistica e musicale, bande, cori, scuole di musica riconosciute dalla pubblica amministrazione e con isa inferiore a 36.000 euro. La detrazione aspettante per il bonus musica è pari al 19% fino a un massimo di 1.000 euro. Non serve presentare domande, le spese sostenute vanno indicate nella dichiarazione dei redditi con apposita documentazione.